Salve a tutti ragazzi, eccola qua, la desideravo in quanto non avevo ancora in tutta la mia vita un attacco a baionetta, cioè di questo modo qua, per attaccare i Mytholx a baionetta. Vedete? Molto utile e pratico, in modo che quando avvitate con l'avvitatore non vi scapperà la punta. Quando state magari in posizione scomode, con le ginocchia a terra, questo vi servirà a non farvi cascare giù la punta. Molto utile, molto pratico, lo desideravo tanto, l'ho vista al brico come unico pezzo di un colore dorato, pessimo, non era bello da vedere. Da solo costava 10 euro, invece sono andato stamattina a Lidl ed ho acquistato tutto questo kit, che è sempre per robistica, a 10 euro, lo stesso prezzo. Una comodissima valigetta che dentro ha, come potete ben vedere, anche da soli, i boccoletti da 6, 7, 8, 9, 10 e 13. Poi abbiamo Philips 123, poi abbiamo Posi Drive 123, Slim o detti a taglio, poi abbiamo i Torx, i Torx Plus, quelli con il foro centrale. Molto pratico. Ah, questo manco l'avevo visto, questo è l'aggiuntura per queste qua, che va qua dentro. Vedete? Che lo regge e non lo fa sfilare, ha queste due sfere, anzi una ne ha, scusatemi, laterale, che non fa sfilare il boccolo. Diciamo così. E tutto questo in una comoda valigetta, che si può anche attaccare alla cintura dei pantaloni, in questo verso qua, lo si può girare, oppure appenderla alla parete degli attrezzi, se ce ne avete una. Tutto questo stamattina alla Lide della Parkside, a soli 10 euro. Io vi consiglio di acquistarla, se siete, ho visti smanettoni, magari perché no, si può provare anche a livello di lavoro, magari va bene ugualmente. L'odore degli oli che usano per tenerli buoni. La manifattura mi sembra buona al tatto, visto che sono anche, non so, colorati. Ce li hanno anche colorati. Eh sì, ecco, magari se avvicino la telecamera e sgancio, vedete? Un arancione, blu, azzurrino e giallo. Ce li hanno anche colorati. Ah, ops, questi due vanno un bel grigio. Forse per distinguerli, questo non l'ho ancora capito, magari mi leggo un poco il libretto di istruzioni all'interno. E niente, volevo condividere questo con voi, consigliarvi l'acquisto perché lo vedo molto utile a mio avviso, soprattutto per chi sabato e la domenica smanetta nel garage come me. E niente, grazie di aver visto il video. Alla prossima, ciao ciao.